Mauro Pettinaro, Filcams CGL, che indossa una maglia eloquente, infranto, Mercatone 1, come le nostre certezze. Oggi rappresentanti, oggi ex lavoratori del Mercatone 1, le sedi di Scerne di Pineto, Colonella e San Giovanni Teatino, le tre sedi del Mercatone 1 in Abruzzo, qui all'assessorato regionale del lavoro, avete avuto un incontro per cercare di salvare il salvabile, anche se la situazione è difficile. Cosa vi è stato detto? Oggi purtroppo abbiamo registrato un atteggiamento vergognoso della regione Abruzzo. Come vedete nella mia maglietta, appunto il sogno infranto, che era stato già infranto il 24 maggio, quando c'è stato il secondo fallimento dei dipendenti ex Mercatone 1, quindi situazione drammatica. Il 5 giugno siamo venuti qui in regione Abruzzo a parlare con l'assessore Febbo, in cui abbiamo chiesto, ovviamente non avevamo chiesto miracoli, avevamo chiesto del sostegno al reddito dei lavoratori, delle forme di sostegno al reddito, dei protocolli di intesa, di attivarsi immediatamente con tutte quelle forme che l'istituzione regione poteva attivare per i lavoratori. Abbiamo chiesto anche di sollecitare l'Inps perché ci sono i lavoratori di Teramo e i lavoratori di Pescara che ancora ad oggi, rispetto a tutta Italia, non hanno ricevuto il pezzo di ATFR che invece in realtà in tutta Italia è stato dato. E purtroppo oggi, 18 luglio, a un mese e mezzo dall'incontro, non solo non abbiamo ricevuto alcuna risposta, non solo non abbiamo ricevuto alcuna proposta che potesse migliorare la vita dei lavoratori e ovviamente potesse comunque condividere con i lavoratori un percorso, ad oggi non si è presentato nessuno. Bruno Di Federico, Will Tux, oggi nuovamente i lavoratori del Mercatone 1 a manifestare, a far sentire la propria voce. La Cassa Integrazione scade dicembre 2019, oggi è stato detto si sarebbe dovuto parlare di un progetto di rilancio. Noi abbiamo dato una data di lunedì prossimo alle ore 16, sì ci siamo presi un appuntamento alle 16, prima del Consiglio regionale, ovvero ci danno alcune risposte chiare su alcuni aiuti che già regioni hanno fatto, altre regioni come le Puglie, come l'Emilia Romagna, altrimenti sicuramente andremo a presidiare, a fare una manifestazione presso la regione all'Aquila.